Allora benvenuti siamo a piramide usita vedete piramide usita è la porzione di piramide caffè che sta funzionando dal 2009 in open sim e dove stiamo facendo da anni appunto un bel po' di sperimentazioni di lavori di cose di possibilità espressive che ha open sim in meglio e o in peggio rispetto a second life qui abbiamo una mappa questa l'abbiamo presentata per il quinto compleanno di piramide caffè nel 2013 l'11 gennaio 2013 e in questa ipotetica mappa del metro vedete che ho messo in relazione tutta la porzione open sim di cui ci stiamo in qualche modo occupando alcune porzioni sono proprio di piramide piramide usita comunque delle persone di piramide altre sono prettamente delle griglie che ci ospitano abbiamo infatti varie grid connesse vedete qua dietro a me c'è clone life clone life è una grid gestita da un gruppo che si occupa anche di opensimulator.it opensim.it e che soprattutto ha dato gratuitamente in uso di un server dove girano le nostre sim per le quali appunto ringraziamo altre sim importanti abbiamo visto sono appunto la craft vedete qui abbiamo un craft alla sim dove siamo adesso noi abbiamo creato queste sim e le abbiamo inserite nel contesto di queste grid e in queste grid quindi craft è la più importante sim a cui ci facciamo riferimento quindi se volete venire anche voi in craft basta che andiate e cerchiate craftworld.org vi trovate questa mascherella potete registrarvi un avatar e poi scaricandovi firestorm quello che uso io oppure fenix esiste già nella mascherella di inserimento il termine cioè praticamente la login URI associata quindi si entra facilmente in faccio vedere un esempio firestorm dovete scaricarvi la versione open sim perché adesso fino al 2012 inizio 2013 firestorm ci sono due versioni quindi dovete andare sul sito faccio vedere quindi firestorm eccolo qua entriamo e vedrete che una volta entrati nella parte di download vedete che abbiamo versioni per windows per second life per mac o per linux e abbiamo poi la versione per open sim allora per entrare nelle grid open sim dovete cliccare e poi da qua scaricarvi la versione opportuna a quel punto lì una volta che lanciate firestorm vi dovreste trovare automaticamente la grid impostata ah se non vi siete ancora registrati su craftworld abbiamo visto che dovete registrarvi vi dovrebbe arrivare un'email e poi a quel punto lì con il nome dell'avatar e il cognome e la password potete poi collegarvi quindi qua ad esempio entro con un alt qui tra l'altro vedete che abbiamo le varie grid vedete che tra le varie grid c'è craftworld se non le aveste ctrl p e poi nella parte open sim cercate craftworld e vedete che c'è l'indirizzo che è craft-world.org 2.8002 quindi potete inserire questo indirizzo se volete invece entrare e registrarvi su clonelife analogamente c'è un indirizzo simile che è clonelife.eu ok allora una volta entrati quindi vi trovate a Hydra tipicamente che è il tipico entry point da Hydra vedete che c'è questo simbolo dell'aereo che permette poi di teleportarsi con il meccanismo di hypergrid che funziona tra le varie sim quindi da Hydra potete andare direttamente anche a clonelife o su os grid ci sono dei punti di contatto ma vedremo che ci saranno delle possibilità anche più veloci per spostarsi da spirit che vedete che sono delle sim di interscambio qui ho segnato un'altra grid che è Edmondo che è una grid con la quale abbiamo collaborato molto e con questa grid però questa grid è riservata soltanto agli insegnanti e quindi è diciamo semi chiusa non è una grid aperta come quelle altre che stiamo vedendo perché per registrarsi a Edmondo occorre appunto essere un insegnante, essere autorizzati perché è una grid riservata dove ci sono anche ragazzi minorenni e quindi gestito dal ministero delle istruzioni attraverso l'ANSAS in dire e quindi è una cosa abbastanza interessante che noi stiamo seguendo molto stiamo dando un supporto però comunque deve rimanere riservata comunque ne parleremo ancora allora quindi il nostro viaggio comincia dalla piramide usita che adesso vi farò vedere brevemente poi andremo, faremo un giro e andiamo a vedere la prima grid in assoluto che è stata creata dal gruppo OpenSemita adesso vediamo Bortolerd che ho riesumato dall'archivio storico e al momento l'ho messo in una grid in una sim di sandbox e da questa vedremo le primissime creazioni quindi è una grid storica che merita di essere vista andremo altresì a vedere appunto Spirit che è quella che vedremo con esattezza la differenza quindi poi vi descriverò sim per sim quali sono poi ci sono tutte le sim del circuito Craft quindi a partire da Hydra andremo brevemente che è diciamo il punto di arrivo in interscambio alcune altre sim fra cui Jess O Margie Dreams è una sim di cui siamo molto orgogliosi gestita appunto da Margie Dreams in Second Life oppure anche Carmen Auletta che è una poetessa e pittrice che è disabile quindi costretta a letto e che è riuscita a usare Second Life e OpenSem per dare corpo alle sue poesie e sui quadri in realtà vedremo che abbiamo poi anche altri posti molto interessanti qui ne ho messi solo alcuni di Craft quindi Opera perché è una sim costruita da Liku riproducente insomma una cittadina italiana è ancora meglio Metaverse dove c'è proprio una cittadina dell'800-900 e poi c'è un circuito di Freebie Uptown sono tutte sim che meritano essere viste così come tutta la grid di Craft in generale qui avevo messo Jess O perché la sera in cui abbiamo fatto l'inaugurazione in quel momento c'era anche un concerto e quindi ho fatto riferimento visto che la nostra dunque la specifica di piramide usita era quella di riuscire a usare OpenSem al massimo della sua potenza e noi abbiamo cercato di evidenziare come una delle potenze più importanti la possibilità di condividere conoscenza quindi di fare lezioni e lezioni ne abbiamo fatto a Spirit ma soprattutto ricordiamo anche ciò che è stato fatto a Sofia Sofia è una sim costruita da Paidos Vudal Paidos Vudal è un nostro amico che è mancato nel 2012 stava facendo diverse iniziative di divulgazione scientifica o comunque di conoscenza di Linux, di OpenSource e di altre cose e il suo lavoro dovrebbe essere continuato infatti ci siamo imposti anche come obiettivo quello di continuare il suo lavoro che è comunque originario in cui non ci sono insegnanti o allievi ma la conoscenza viene condivisa e distribuita attraverso classi tra virgolette anarchiche quindi autogestite e poi questo brillante progetto che è qui che mi ha chiamato Matemagics che c'è una sim proprio che si chiama Matemagics ma che è la punta dell'iceberg di un progetto più che progetto diciamo di un gruppo di persone che hanno lavorato molto su Edmondo e che volevano espandersi su Grid aperte anche per sperimentare le ultime novità di OpenSIM che si possono fare su Craft e questo progetto si chiama Edu3D ed è tutto un insieme di possibilità che sono da esplorare su OS Grid vedete che abbiamo messo un'unica sim, Scriptlandia dove ho caricato un po' di script una sim analoga che si chiama proprio Scriptland esiste su Edmondo ed è gestita dalla mica Rosa che è insegnante di informatica e che sta facendo un ottimo lavoro didattico ricordiamo che Edmondo appunto sta insegnando usando i mondi virtuali ai ragazzini delle scuole elementari ma anche ai ragazzi delle medie inferiori e superiori e l'Edu3D il progetto cerca di far arrivare anche queste informazioni anche cioè queste modalità anche ad adulti o comunque non solo e in fondo abbiamo anche tutto il discorso che dunque da spiriti vedete che si può andare a MeshTown che è una sim che era stata costruita per dare la possibilità di valorizzazione di tutti i building tutte le costruzioni Mesh infatti ecco MeshTown mentre invece Spirit è una sim che era stata costruita con l'idea con lo spirito di dare a chiunque volesse costruire e avesse bisogno di un spazio di sperimentazione in cui facesse qualcosa per gli altri non soltanto in maniera diciamo solo per se stessa ma qualcosa che volesse in qualche modo mostrare agli altri e quindi Spirit e si chiama Spirit perché era lo spirito di Vulcano ed è il modo in cui Vulcano era nato in origine questa vedete è una grid ulteriore dove abbiamo montato MeshTown che è ospitato da Clone Life e su MeshTown vi faremo vedere anche la sua Welcome Area costruita da Gabriele e Trio dove c'è una ricostruzione di Pyramid Cafe ecco perché è segnato in realtà su Clone Life ci sono tante altre cose ma noi faremo vedere solo una cosa breve ok questa diciamo è il piano del viaggio e adesso ci approcciamo a fare questo viaggio ok allora eccoci qua su Pyramid Osita qui possiamo fare un'esplorazione ma prima di esplorare voglio solo farvi vedere quando era stata costruita Pyramid Osita che era nel 2009 16 marzo 2009 le persone che avevano contribuito a costruire questa realtà appunto erano Salazar che si è sottoscritto Magic Flute e Zoja Zabelin è giunta coi me ora a parte il sottoscritto Magic Flute non è più presente per motivi personali sui mondi virtuali e altrettanto Zoja Zabelin è giunta coi me però hanno lasciato appunto un'impronta nel metaverso che è giusto ricordare quindi ecco perché ma non solo loro adesso vedremo che su Pyramid Osita ci sono tante altre realtà che hanno partecipato comunque cercheremo di essere molto brevi qui su vedete che ci sono delle costruzioni queste costruzioni sono interessantissime abbiamo infatti qui avete i giardini pensili di Babilonia costruiti da Marco Elio e da altri build fra cui Rume Gush e altri e questa in teoria era una costruzione che era nata con l'intento di fungere e di funzionare come museo per avere link e riferimenti ad altri grid ad altri fenomeni ad altri build che c'erano da tutte le altre parti quindi è un progetto che Edu3D ad esempio voleva portare avanti molto bello ve lo raccomando qui ci sono anche le mie opere che ho messo poi c'è un bellissimo ricostruzione di una struttura egizia c'è vari riferimenti ai piramidi di caffè ottime costruzioni questo qui è il simbolo di piramidi di caffè abbiamo anche una zona diciamo una piscina sempre col simboletto abbiamo già festeggiato varie cose qua e vedete che la piramide si ripete varie volte e questo è diciamo il punto che abbiamo anche proprio il caffè dove ci si incontrava si prendeva una birra e anche questa realtà è importante cioè offre diciamo tutta una serie di possibilità che possono essere affrontate diciamo per riunirsi per vedersi e vedete in prospettiva abbiamo appunto OpenSeamMita e su OpenSeamMita facciamo un piccolo riepilogo adesso che parleremo di Born to Learn eccoci arrivati a Born to Learn vedete che questa è una una sim che è importante è stata fatta nel 2008 a seguito di un io ho cominciato a fare delle lezioni mettiamo giorno ok però forse era meglio metterla ah no che sono scorderla mettiamo un pochino più verso sera ecco che bello allora qui vedete questo punto qua in particolare è stato il primissimo che era stato costruito in questo sim che era stato fatto da Giunta con me per nel pc di casa sua quindi una delle primissime sim mai fatte e su cui aveva cominciato a far arrivare della gente di questo gruppo che si era costruito dopo che avevo fatto delle lezioni in cui stavo cercando anch'io di capire cosa fosse OpenSim e qui ci si riuniva ci si incontrava ci facevano delle prove e si costruiva si costruiva un po' tutti quelli che riuscivano a fare una cosa importante vedete abbiamo scoperto vari geni tutte persone che adesso non ci sono quasi più in Second Life questa scritta Born to Learn che vedete era stata scritta da allora era stata costruita da Erpiotta che è stato un grande collaboratore anche lui di questi esperimenti una persona che non pensava di non avere doti ma ha fatto questa scritta in pochi minuti praticamente avendo pochissime cognizioni di building e usando nessun sistema se non le proprie capacità manuali di mettere insieme dei primi qui ci sono in realtà il lavoro di parecchie persone che erano venute a suo tempo ad aiutare anche piccoli artisti qui abbiamo ricostruito varie cose vedete che c'è anche l'albero degli elfi perché sono arrivati gli elfi a un certo punto qui c'è una cosa interessante forse a parte che ci sono delle foto storiche di quei momenti che sono state raccolte quindi qui c'è una galleria di foto di quei momenti ma soprattutto qui nel 2009 avevo messo una cosa che adesso può far sorridere una sequenza di previsioni che aveva fatto Justin Cici che è il papà in qualche modo di OpenSIM dove spiegava da tutta una serie di risposte a cosa fosse OpenSIM e come doveva evolvere e la cosa interessante è che tutto sommato OpenSIM per quanto sia evoluto è rimasto più o meno siamo ancora lì che stiamo cercando di risolvere questi dubbi insomma che si cercavano di risolvere all'epoca nel 2009 e nonostante che sono passati tre anni poi c'era una welcome area che avevano fatto basandoci con la collaborazione di Impara Facile di Second Life e poi ci sono tutta una serie di altre cosine che sono ormai appunto storiche alcune cose artistiche e non dimentichiamoci anche questa costruzione di Giordi Rubbiani che ha fatto inizialmente su Second Life e che ospitava delle mostre ha ospitato una mostra sulle donne sulle donne e sulle arte delle donne in Second Life e che ha fatto un po' il giro di Second Life e di cui adesso abbiamo soltanto questo diciamo questo residuo poi qua una cosa carinissima abbiamo se volete visitarla questo è un quadretto fatto da il figlio di Giunta qui me e niente anche i bambini appunto riuscivano a divertirsi a fare disegni e riuscivano a mettere disegni tranquillamente dentro se poi venite qua cercate di esplorare anche qua sotto vedete qui i colori sotto che l'ingresso si entra probabilmente da qua da questa sfera quindi ci sono un po' di cose nascoste vedete che c'è anche un'ambientazione sotterranea ancora funzionante con degli script adesso qui non è ancora rezzato tutto si sta rezzando ma vedete che c'erano delle cose carine insomma si faceva un po' quello che si poteva ma comunque era un ottimo un ottimo esperimento e si facevano opere d'arte quindi vi raccomando venite a visitare perché non so quanto poi magari faremo anche proprio un museo di queste sim storiche se le ritroviamo se le ritroviamo gli OR cosa che ormai molte sono date perdute e perché una delle cose nostre che si voleva era anche di conservare la storia l'identità delle persone anche se queste persone non ci sono non sono più attive in second life o in open sim e questo direi è più o meno tutto per quanto riguarda born to learn ecco per completare born to learn era uscita diciamo da questa esperienza che era open sim mita vedete qui abbiamo la vecchia versione del 2009 di questo sito che è ancora accessibile su aliasl.org anche questo è un po' un'opera una cosa storica perché il gruppo piramidosita cioè open sim non c'è quasi più se non perché proprio le persone che lo costituivano si sono un po' perse ma le idee le potete trovare qua a questo qui aliasl.org mediaweek indes.php e vedete che qui ci si rifà a tutta una serie di concetti che secondo me continuano ad essere attuali anche adesso ingrandiamoli un attimo quindi qui insegnava come poter usare open sim anche per scuole università aziende e all'epoca c'era la grid italiana ciberlandia e poi abbiamo la piramidosita che era quella che si è strutturata poi nel 2009 ma vedete si cercava di offrire aiuto tecnico e sostegno per chi voleva usare open sim vedere le potenzialità e limiti creare dei modelli dimostrativi per gruppi educativi per far vedere che open sim fosse una possibilità plausibile ed attuabile collaborare con la comunità internazionale e poi collaborare con enti società e gruppi che rispettino principi etici elementari che abbinano un'impostazione reciprocità di costruttivismo sociale e qui vedete che siamo rifatti al costruttivismo sociale quindi open sim qui aveva poi fatto molte cose avevamo fatto delle lezioni avevamo distribuito e ci sono ancora delle pagine vecchie su questo sito e adesso un po' quello che veniva fatto da open sim viene proseguito di fatto da da craft o comunque da altre realtà e forse anche da edu3d che è quel discorso che dicevamo prima quindi quindi se volete date appunto un'occhiata a questo esplorerevamo anche come si installava all'epoca tutto questo sistema allora adesso niente andiamo avanti vediamo le altre grid le altre sim che abbiamo su craft in particolare Margie Dream ed eccoci a Margie Dream vedete che è una bellissima sim dove molti builder hanno dato il loro contributo per aiutare Carmen Auletta qui abbiamo diversi quadri abbiamo detto che Carmen Auletta era quest'artista poi abbiamo il contributo anche di Beduido che ha fatto diverse costruzioni anche lui queste costruzioni un po' stranine sono spesso sue e in particolare qui in questa sim avete fondamentalmente due cose perché abbiamo questa questa sfera in mezzo che era questa mostra che era stata fatta in Second Life originariamente e che poi per problemi di prim era stata poi rimossa ma ricostruita qui in OpenSim all'interno di quella sfera c'è appunto tutta l'espressività di Margie che voleva esprimere come dal letto dal suo letto che aveva a casa poteva tramite Facebook e comunque altre realtà mettersi in contatto con tutte altre persone costruire e diffondere le sue poesie la sua arte e via discorrendo poi in realtà questa sim è tutta da esplorare dovete vederla perché molti pezzi della sim sono delle ricostruzioni di quadri di Carmen Auletta quindi vale la pena proprio di visitare e di cercare tutti i posti della sim che sono molto molto carini qui in lontananza vedete che sono le altre sim quindi abbiamo laggiù vediamo Spiriti dove andremo fra poco mi ero dimenticato di dirvi anche che a Piramide Café Piramide Usita che vedete laggiù che confina con questa sim c'era appunto questo progetto dei giardini pensili di Piramidopoli che era stata un'idea che era inizialmente voluta da Margie Dreams e che poi non è stata portata avanti qui ripeto Clone Life è l'ospite delle nostre sim così come Craft ospita questa sim in quanto come coordinate geografiche vale veramente la pena di essere visitata ok e dopo Margie Dreams rieccoci tra l'altro adesso ha deciso quindi posso farmi vedere perché mi si muovono le labbra finalmente quindi abbiamo visto già un po' di sim quindi Piramide Usita Born to Learn abbiamo visto anche Margie Dreams che era questa adesso siamo a Spirit Spirit è stata una sim costruita concepita nel 2010 11 da Magic Flute nel tentativo di espandere l'esperienza di Vulcano in OpenSim dove veniva data la possibilità a chiunque avesse voglia di costruire di avere un posto suo dove poter esprimersi quindi vedete che la sim presenta già diverse cose interessanti anche cose ingenue come questa casetta ma anche ad esempio queste strutture già un pochino più costruite Beduino che ci ha fatto diverse cose ci ha costruito un'intera specie di classe diciamo moderna multimedia caffè ci ha fatto anche questo pallone ero statico quindi magari da sperimentare ma qui vedete che si è data strutturata ricavata anche un angolo per l'insegnamento dove io ho fatto c'era una parte per il building dove si facevano classi di building e classi di scripting in cui ho fatto diverse classi dove spiegavo vedete che c'è il cartellone del scripting per tutti questo nel 2012 ho fatto queste attività poi vedete che ci sono anche diversi esperimenti questi in particolare li avevo fatti io sono esperimenti di uso di blender per fare degli effetti speciali artistici questi sono dei fluidi quindi ho fatto un po' di cose per i fluidi e poi in lontananza intuite che c'è questa specie di torre molto carina e su questa torre era stata fatta ideata per un compleanno di spiriti c'è un'inaugurazione di spiriti c'è stato anche l'intervento di Giancarlo all'uno un'altra cara amica che è ancora un pochino presente anche se un po' di meno e ripeto questo pezzo è molto carino da visitare anche questo Animal Crossing quindi ci hanno fatto sono state fatte un po' di cose adesso per noi spirit è interessante perché vedete che tutte queste parti di Mesh che sono state fatte qua l'idea era quella di riuscire poi a ricostruirle riportarle in di costruirle proprio su Mesh Town anche questo progetto nel 2012 che si pensava di far partire e qua abbiamo invece due cartelli interessanti adesso poi lo vedremo questo Mesh Town cliccando qua si va direttamente a Clone Life e cliccando qua si va sul Craft Store che è un punto molto interessante che vediamo dove ci sono tipo Uptown Opera e Metaverse che adesso magari vediamo brevemente prima di lasciare la grid quindi no dobbiamo vedere ancora Hydra è questa quindi adesso magari facciamo poi un giro però prima di passare sulle sim proprio craftiane facciamo un po' un giro su Sofia e Matemagica ok allora eccoci Sofia questa è la sim che come vedete è molto bella che era stata creata da Paidos in cui Paidos faceva le sue lezioni e che poi era stata dopo la sua perdita era stata poi ristrutturata per sono stati fatti dei festeggiamenti quindi sono state aggiunte alcune cose che sono rimaste ma nell'essenza l'idea era quella di avere questa specie di accademia università in cui c'erano delle aree delle zone e c'erano delle aree di lezione quindi delle stanze dove si poteva fare delle lezioni quindi sono varie aule e queste l'idea era quella di cercare poi di portarla avanti quindi qui anche abbiamo spazio per chi vuole insomma partecipare per fare produrre cultura virtuale ricordiamo che Paidos aveva appunto elaborato questo sistema di insegnamento in cui si c'era magari anche un proponente della lezione ma la lezione era condivisa ecogestita da tutti allora visto che siamo qua magari andiamo a dare un attimo a un punto molto interessante che è campus che campus forse campus quindi andiamo a campus perché campus è un punto questo punto che ci interessa in cui Liku e Tao anche hanno costruito una sorta di libreria adesso una penalezzera lo vedrete una libreria in cui si pensava anche qua di riunire un po' il sapere eccola laggiù vedete quell'edificio che si sta formando quindi andiamoci ecco in questo edificio abbiamo appunto una raccolta in cui ci sono anche dei libri e aree d'incontro campus quindi predisposto proprio per quello che ci interessa a noi che appunto ci ha interessato parecchio quindi la capacità di incontrarsi di discutere a vario livello dopo campus adesso qui non era specificato campus però era in armonia con Sofia e visto che parliamo second library biblioteca Ciberlandia campus probabilmente perché era nata proprio anche ai tempi di Ciberlandia ed è stata anche questa riportata andiamo ora invece a una novità che è Mathemagics che mi hanno detto essere la parte diciamo gestito dal gruppo Mathemagics eccolo questo è il gruppo Edu3D seguito e coordinato da Gigliola e qui stavamo collaborando e siamo vicini anche a Born2Learn infatti il Born2Learn lo trovate come Edu3D Sandbox finché non troviamo una cosa migliore e qui su Mathemagics si stavano cercando di organizzare le idee era anche questo una sandbox didattica costruttiva in cui vedete che già parecchia gente aveva cominciato a costruire queste sono tutte particles di rosa ho fatto adesso qui sul video non si vede benissimo ma quello è un sistema di particelle che fa l'arcobaleno e qui abbiamo vedete qua in fondo abbiamo l'albero delle idee che era quello in cui l'insegnante e altre persone stavano cercando di capire come utilizzare i mondi virtuali per costruire per fare educazione didattica all'interno di OpenSIM e non solo dietro vedete c'è Born to Learn quindi se non riuscite altrimenti potete andare a Born to Learn da qua e lì poi vedete che abbiamo anche un partenone io stesso il mio avatar è vestito da Achille perché l'idea era quella di fare poi una rappresentazione di Achille e la tartaruga ma di progetti del genere ce ne sono tantissimi che vogliamo fare e quindi vedete che l'area educational qui è molto sentita ed è sviluppata molto dagli insegnanti su Edmondo sulla griglia chiusa che abbiamo visto finiamo un attimo e andiamo nel hub principale che si chiama Hydra di Kraft eccoci qua vedete questa bellissima in mezzo al mare ed è il punto di accesso di Kraft e questo ve lo raccomando perché arriviamo deve buildare tutto quindi si entra all'interno di questa costruzione questa costruzione ha una serie di pannelli dove ci sono le cose che stanno accadendo in Kraft o anche alcune cose vecchiette ci sono alcuni freebie e poi soprattutto i freebie li trovate poi sulle pareti laggiù vedete che ci sono quei cubetti abbiamo poi le pareti dei pannelli che cliccati fanno teleportare sulle varie sim più importanti di Kraft lì dietro avete dei portali Hypergrid per visitare altre grid molto importante abbiamo una possibilità di andare allo store per comprare adesso non ci andiamo e cos'altro dire insomma è una è veramente una cosa molto piacevole quindi complimenti ai builder vedete e da qui si può cominciare a navigare e per portare insomma vedete questa azione Hydra Kraft Hydra Station e così abbiamo visto anche Hydra facciamo anche Uptown che Uptown è un sistema c'è una specie di marketplace tutto a zero a zero l'indendol se non si paga quindi Uptown è un negozio di freebie un po' come quello da cui si arriva da Hydra che però è caratterizzato dal fatto di avere dei freebie ad argomento fantasy questa è una cosa interessantissima vedete istarezzando dalla zona centrale si può andare nelle varie isolette e ogni isoletta ha diciamo diversi freebie che si possono prendere quindi ad esempio se noi vogliamo andare qua in questo edificio vedete mi sposto e qua dentro trovo tutta una serie di cose interessanti tutte gratuite e per ottenerle basta di solito adesso vediamo qua tasto destro more take copy e io automaticamente nel mio inventory vedete che ho in questo caso una primitiva perché questo purtroppo era stato chiamato primitive fatto da Likurao e eventualmente vi riminate il nome e comunque se volete questo oggetto lo potete rezzare e qui abbiamo veramente una marea di cose interessanti molto molto interessanti quindi vi ho visto Uptown finiamo un po' la carrellata su Craft con due sim che ho scelto un po' perché in qualche misura sono state connesse ai lavori che abbiamo fatto perché ad esempio a Metaverse abbiamo organizzato un evento sul sul file quindi andiamo a Metaverse Metaverse eccoci questi sono abbiamo detto due sim che sono molto molto carine sono state donate a Craft per l'uso che è sembrato più adatto che comunque è un uso fondamentalmente non profit adesso si sta rezzando questa è in pratica la ricostruzione di una città italiana del ecco del novecento vedete che c'è una scalinata adesso man mano che appare per i miei sculpted vedete che si costruisce una piazza italiana tipica con la fontanina e questi palazzi di inizio novecento qui hanno fatto anche un concerto quindi sono tutte zone abbastanza utilizzate e noi qualche mese fa ci abbiamo fatto appunto questo evento sul file vedete che c'è questo palazzo adesso sta arrivando con queste statuone sculpted ben fatte quindi non è vero che non c'è ah Moran de' Medici è il costruttore di questa sim quello che ha donato l'ho anche parlato lui l'ha donato a chiunque abbia bisogno di qualche cosa di bello quindi vedete che come builder ne abbiamo parecchi e abbiamo diversi scorci qui abbiamo poi la strada al mare togliamo il cartello che è di troppo e quindi abbiamo visto Metaverse poi c'è Opera che è dedicata anche a una specie di teatro lirico che però adesso non abbiamo tempo di vedere ma sono tutte insomma su craft praticamente su dieci sim direi che almeno cinque o sei sono di estremo interesse molto ben fatte e con molte idee lo stesso non si può dire ad esempio di OSGrid dove sono parecchie sim si nel mucchio OSGrid che è la più grande grid OpenSIM ha tantissime cose ma nella percentuale tra qualità e quantità craft mi sembra che sia veramente una grid che si difenda molto molto bene ok allora diciamo che con questo abbiamo terminato il giro su craft quindi adesso andremo di nuovo su spirit e per viaggiare un secondo andremo un attimo su OSGrid a vedere scriptlandia e poi infine finiremo il giro con la meshdown e l'abbiamo detto prima la nostra clone life ok rieccoci a spirit mi ho detto che spirit è quindi un po' al crocevia andiamo poi ci mettiamo qua ok qui dove facevo lezione di script e qui la cosa interessante è il questi allora questo qui sono cose che ho preso vedete qui c'è un teleport uptarming park in OSGrid posto molto interessante da qui ho preso ad esempio questo questo oggettino questa statua poi c'è anche un teleport verso devo cantao ma poi soprattutto invece la cosa che è più attinente a quello che facciamo è questo teleport scriptlandia particles che si trova su OSGrid quindi cliccandolo vedete che ho un teleport e il teleport mi porta in questa sim che non è più su craft quindi stiamo usciti da craft vedete che compare la mia sim questa l'ho costruita io ed è una sim che vista da lontano vedete che è fatta da l'idea era quella di costruire un percorso dove si facesse vedere come si potevano fare le particles qua in questo settore quindi vedete che qui si fa la pioggia qui c'è la neve e lì ci sono vari effetti tutti anche abbastanza interessanti cliccando sul cartellone quindi se io clicco sul cartellone e vedete che mi arriva ecco faccio accept quindi mi arriva un recent items allora c'è snow e vedete che ci sono c'è uno script che io posso vedere e questo è lo script che fa l'effetto neve e quindi posso prendermelo e fare poi i miei esperimenti qui avevo fatto adesso qui diversi esempi nel vedete qua vicino c'è una parte in cui ho fatto rotazione di script vedete e poi volevo completare sempre che qualcuno eventualmente mi dà una mano con tutta altra serie di strutture una cosa analoga anche se fatta leggermente diversa la sta facendo rosa su edmondo ed eventualmente tempo permettendo stiamo cercando di mettere più o meno gli stessi script di qua e di là ma qui tra l'altro all'ingresso quando si arriva questa parte qua è uno script di teleporting di terraforming e quindi molto interessante ok allora torniamo invece alla nostra grid ctrl shift h per tornare a casa che è il modo per tornarsene da una grid in upper grid sono su una piattaformina andiamo di nuovo su spirit questa volta su spirit però facciamo il passo e facciamo l'hyper grid verso clone life quindi andiamo su mesh down aspettiamo che si rezi eccolo qua allora qui vedete mesh down su clone life e andiamo a vedere in un posto dove si pensava di mettere tutto questo genere di mesh eccolo qua vedete che c'è un delfino un'immagine mesh down lo clicco e poi riesco finalmente a teleportarmi ok allora qua una volta che mi sono spostato vedete qui ci sono alcune costruzioni che erano state fatte all'inizio su mesh down purtroppo i primi mesh vedete qua danno errore qui dovrebbe esserci dentro delle costruzioni ma le ultime mesh costruite sono tipo questo qui che ho fatto poche settimane fa invece si è rimasto e poi in lontananza vedete il lavoro su mesh down sandbox per te con tutta una serie di costruzioni carine fatte da da beduino e qui vedete questa cosa qua che ha ricostruito e riportato qua a beduino abbiamo trio in lontananza che è l'altra sim fatta da Gabriele dove c'è una parte proprio di piramide caffè ma adesso andiamo a esplorare brevemente usando questo tardis questa specie di teleporter che se viene cliccato vedete fa questo effetto qui si arriva sulla welcome area di clone life e qui Gabriele ha costruito tutto un percorso molto carino in cui si può praticamente entrare ecco vedete che ci sono dei teleport automatici cosa quasi impossibile su second life si fa tutto un percorso dove insegna a volare e via discorrendo e poi al termine di questo percorso poi si arriva ah vedete il percorso è fatto tutto in mezzo a queste montagne si arrivano credo se non mi ricordo male o qua ci sono alcune cose no oppure allora l'altro pezzo qua perché c'è un pezzo dove ci sono dei fribi ecco che dovreste fare tutto il percorso per trovarli ecco questa grid è anche molto interessante forse qua ecco arriviamo qua quindi ci teleportiamo se ci riusciamo qua perfetto e quindi qui arriviamo a una zona dove vedete qui vengono dati degli script e qui abbiamo vestiti e altro quindi insomma anche qui se uno volesse quindi abbiamo vestiti dress dovrebbero esserci anche delle pelli se uno vuole prendere un vestito qui basta che faccia il buy con zero e nell'inventory compare nella my suite case perché sono cose prese sulla camicia vendor e vedete che abbiamo la camicia in pero presa quindi vedete questo è un modo per prendere diciamo in giro delle cose che sono state ovviamente progettate per essere prese ma una delle cose fondamentali di tutto il mondo OpenSIM è normalmente il fatto che le cose vengono date gratuitamente ci sono delle grid chiuse dove questo non avviene ma dove ci sono delle dove ci sono diciamo nelle simulazioni esatte di Second Life però secondo me non è proprio l'obiettivo fondamentale di OpenSIM quello di di incoraggiare la vendita di prodotti anche perché di fatto non non si riesce insomma per altri motivi insomma è un prodotto in alfa è un prodotto che non funziona benissimo e quindi avrebbe anche poco senso vendere delle cose un po' come si fa su Second Life qui tra l'altro vedete che c'è il proprietario di Clone Life Druscus Var che è Gabriele che è nuvoletta che ci sta dando in pratica il benvenuto nella sim qui potete comunque andare sulla mappa e cercare e cercare i veri posti oppure andare sul sito oppure venire qua come vedete c'è sempre qualcuno disposto a aiutarvi e quindi ecco è arrivata anche la sua la sua shape e tutto il resto quindi potete vedere sto dicendo sto finendo il video e potete chiedere dimmi una sim dove teleportarmi sto chiedendo se mi indica una sim in particolare a trio dove quella siamo già stati ma comunque andiamo quindi nel momento in cui dice queste ok ma trio ci sono già stati comunque ci andiamo ok ci vado quindi come vedete in realtà questa grid per quanto non abbia tutta la frequenza di Second Life è comunque abbastanza frequentata e si trova c'è la riproduzione di Open Silbulator e le cibi Italia ok andiamo a trio quindi andiamo a vedere effettivamente questa sim consigliata ah si perché era proprio una sim che esisteva su su Second Life che è stata poi spostata che è stata spostata poi qua quindi direi che il punto qui abbiamo Community Builder Italia perché ripetiamo che questo era tutto un progetto proprio di distribuzione di diffusione della conoscenza e qui era stato fatto questo anche qui questo edificio visione della conoscenza credo Unix Joomla e via discorrendo ecco Community Builder ok per fare siti web che sono stati stati fatti dei corsi anche a livello professionale per poter costruire e per poter valorizzare e quindi usare OpenSim come come piattaforma di studio e anche perché no di lavoro vedete che lì abbiamo anche una zona incontri dove si poteva fare riunioni come vedete funziona abbastanza bene OpenSim voi direte siamo pochi non c'è sicuramente la resistenza al carico di Second Life ma se uno volesse veramente esprimersi quindi senza pagare cioè senza pagare troppo più che altro perché in realtà costa anche OpenSim è veramente l'ideale prima di lasciarvi voglio tornare un attimo CTRL SHIFT H torniamo in Minecraft eccoci volevo andare in una sim che mi ero dimenticato ma che secondo me è molto molto interessante è il museo del metaverso MDM quindi ci andiamo lo vediamo perché questa era una comunità artistica che esisteva in Second Life e che si era spostata su OpenSim e che ha costruito ecco andiamoci teleport ci muoviamo nella zona vedete che ha costruito questo ambiente espositivo dove ci sono delle cose molto molto interessanti molto carine fatte da autori insomma abbastanza bravi tutte cose originali e quindi qui si può qui c'è un ascensore e qui vedete che c'è questo museo del metaverso che merita anche questo veramente una visita e che è costruito in questo modo caratteristico adesso purtroppo anche questo progetto qua è diciamo un po' archeologico nel senso che Roxello Babenco che l'aveva organizzato ha un po' smesso di entrare sia in Second Life che in OpenSim ma l'idea di fondo credo di che si possa ancora utilizzare se non qua comunque cioè il concetto si potrà utilizzare anche in altri mondi virtuali o anche soltanto come appunto come verifica delle possibilità espressive vedete che qui si può navigare dentro camminare dentro l'opera d'arte ed è questa è una delle cose l'interattività è una delle cose che mi è sempre piaciuta molto di OpenSim Second Life con questo mi sembra di aver già detto anche fin troppo spero di generare magari un pochino di curiosità scusate se ho fatto un video lungo ma secondo me OpenSim merita questo ed altro e francamente a saperla esplorare io la trovo anche più interessante di Second Life quindi vi saluto e arrivederci al prossimo compleanno o ai prossimi miei video Grazie a tutti